La città etrusca, questo il titolo del quarto laboratorio di Musee Eclaté Museo Senza Limiti, iniziativa organizzata presso il Museo archeologico di Ponte Cagnano Faiano. L'appuntamento ha visto i piccoli cimentarsi con le iscrizioni lingua e alfabeto etrusco rinvenute nei corredi funerari e con la riproduzione delle terrecotte votive offerte nei due principali santuari della città. Per l'occasione sono state esposte per la prima volta al pubblico alcune iscrizioni etrusche incise su vasi e un corredo databile alla fine del VI secolo a.C. pertinente ad una bambina di rango elevato. Siamo, come diceva, al quarto appuntamento con i laboratori. Anche in questo caso è stata forte l'affluenza e i bambini si sono dilettati sia nella scrittura etrusca, quindi su tavolette di argilla, hanno elaborato delle parole dall'alfabeto etrusco e poi oggi con riproduzioni sempre in argilla di vasetti miniaturistici e offerte votive. Molti degli oggetti, tra l'altro i bambini, hanno voluto lasciarli lì quasi come una sorta di offerta e appunto verrà lasciata in esposizione qui al museo. Per l'appunto proprio il museo, come partner importante del progetto, ha deciso, così come ogni prima domenica del mese, di esporre due corredi tombali provenienti dai depositi, sulla base dei quali i bambini hanno poi realizzato il laboratorio. Infatti, come possiamo vedere, abbiamo due corredi dai depositi, entrambi di sepolture femminili. Ad una bambina tra i 7 e gli 11 anni appartiene il corredo centrale, in cui si vedono tutti gli elementi di uno status prenunziale, cioè di una persona pronta all'età matrimoniale, quindi lo specchio in bronzo, i vasetti miniaturistici e soprattutto a questo elemento allude la colomba. La cosa che ci colpisce è soprattutto la presenza di vasetti miniaturistici e di offerte votive, quindi che ritroviamo tra l'altro nei depositi votivi del santuario rinvenuto appunto a Ponte Cagnano. Sono reperti che sono datati fra il 500 e il 480 avanti Cristo? Sì, anche questa proviene da Ponte Cagnano ed è una sepoltura anche qui femminile ad inumazione. Ritroviamo qui, tra l'altro tematica proprio di questa prima domenica di marzo, la presenza di coppe iscritte, una con un particolare segno, quindi un sigma a cinque tratti e un'altra in cui si legge, appunto se ci avviciniamo, io sono di Calle Cutu. È un'esclamazione di possesso dell'oggetto, in questo caso però trattandosi di una tomba femminile, l'oggetto appunto apparteneva ad un uomo, verosimilmente il marito che lo dona alla moglie appunto defunta. Vi ricordo appunto che queste esposizioni avverranno ogni prima domenica del mese, da qui a giugno e in concomitanza dei laboratori di Musee Eclatè. È importante perché questo dà la possibilità non solo ai visitatori ma soprattutto ai cittadini di Ponte Cagnano di poter guardare ai reperti che normalmente non sono esposti nel museo. Prossimo appuntamento d'aprile invece che cosa prevede? Il prossimo appuntamento scopriremo l'arrivo dei Sanniti, andremo a dipingere tombe, facciate, tombali ricostruite appunto dai bambini e quindi è un appuntamento da non perdere perché anche in quel caso saranno esposte reperti dai depositi che normalmente non sono visibili al pubblico.